Si recca in carcere a trovare un parente detenuto e mentre è a colloquio con questi viene incredibilmente derubata della borsa che aveva lasciato in una delle cassette di sicurezza per il deposito degli effetti personali ubicate all'esterno del perimetro della struttura caratteristica. Autrici del furto con scasso, sono due donne, anche se in quella struttura per un colloquio con familiare detenuto. Le stesse, sono state arrestate dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere che hanno anche recuperato l'area furtiva del valore di 300 euro ed ora dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS